Bella, e io continuo a dirlo, c'è gente, gente molto intelligente, che ha detto che Dragon's Dogma 2 c'ha la stessa cazzo di grafica di Dragon's Dogma 1. Bella sta sfinge, non l'avevo vista, molto molto bella. Però questa mi sa, ok sì che lo rincontri, vedendola così bella, inquietante, bellissima. Però mi sa tipo tra virgolettoni di NPC, che non potranno addirittura non trovare... Oh, io spero che è pieno dei segreti, eh. Cioè se è quella roba dove ti premiano così tanto magari l'esplorazione con mostri nuovi, roba nuova, roba unica, figata. Perché questa è palesemente stata messa veramente tipo la sfinge, no? Messa da una parte per farteli indovinelli, cazza peppoli, per passare a qualcosa. Però cazzo, molto molto bellina. Qua era ancora l'epoca in cui praticamente i video erano smolecolati. Però bello sto mood. Bravi, qua hanno fatto vedere anche un po' di dungeon crawling. Però vedi come sono timidini quelli di Dragon's Dogma. Però questa è una cosa che apprezzo. Mi dà il cazzo a misura. Però invece di fare tipo quelli tanti anni fa, quelli The No Man's Sky. Sì, potete fare tutto, c'è tutto, è incredibile. I pieni di dei 700 formi. Loro stanno zitti zitti, guatti guatti, non stanno alzando l'hype. Ti dà il cazzo perché non te mostrano niente. Però probabilmente quando esci Dragon's Dogma 2 stai costantemente a cazzo duro. È quella cosa che ci succederà. Oh, belle con le pupille che si dilatano. Questo comunque è timidissimo. Era l'unico povero Cristo che mi ha detto vai a fare l'intervista, per forza. Ma dobbiamo... Se stava in cazza minchia, non ci ha fatto caso. Ecco perché era più chiara. Come posso dire? Se ammorbidiscono le piume dal volto. Semplice, per carità, però bello. Come cambia totalmente l'espressione. Madò, ma guarda il cazzo di background di sta figa di zona. Ma poi la fisica di come cazzo si muovono i mostri. Ho paura che tutta... Madò, ho paura che tutta sta fisica si glitcherà costantemente. No, no, ma Dragon's Dogma 2 c'ha la stessa grafica di Dragon's Dogma 1, ricordiamolo. Però vista così magari mi sa di mostro unico. Cioè, ci sta perché appunto anche un po' di folklore, fantasy, tutte quelle robe lì. Non è che la spinge, banalmente pure in D&D. Non è che la trovi a cazzo in giro che gira. Sta nei posti quelli specifici, ti fa indovinelli. Però, porca troia, guardala. Ma poi è benissimo che quando si butta nell'oscurità, c'è tutta l'illuminazione. Magari, mo non so, forse questo è già con Ray Tracing. Però già avete tutti i riflessi sul muro, le luci, sullo spadone. Quando si muove tutte le piume, i gioielli che c'è addosso che si muove. È una cosa bellissima. Cioè, questa è una roba che io in Dragon's Dogma non vedo l'ora di vedere. Perché Dragon's Dogma ce l'aveva anche nell'1 quella sua roba molto semplificata. Perché l'hanno droppato. Del, un po', giocare con la fisica, l'aggrapparsi ai mostri, il cavalcarli, il buttarli per terra, lo sfruttare delle animazioni, degli stordimenti per uccidere e compagnia. E qua, se la fisica diventa fisica in tempo reale, è figo. Perché per adesso non è che stanno a fare niente. Però ti dicono, cioè, ti fanno capire che c'è quel mood di Dragon's Dogma, ma ce sarà anche dell'altro. Dragon's Dogma c'è, però c'è altro. I slime. Eeeh, voi siete furbi, voi avrete una quantità di asset riutilizzati. Ecco, spero che l'abbiano migliorata anche questa roba del mondo aperto. Perché il mondo aperto, per quanto ti premiava nel primo, quando andavi in giro ti esploravi con le cassette, le cose, sembrava molto messo, ok, bravo, sei arrivato qua, ti do il drop. Se loro fanno invece qualcosa di molto figo, che ti ci mettono le casucole, qualche evento particolare, ti mettono tante cazzapeppoli in giro che anche ti intrigano, l'esplorazione diventa molto più bellena. Sì, però non già sta un cazzo da fare. Sta cosa si riconferma sempre sempre di più che loro effettivamente stanno lavorando e tutto quanto, ma fanno cacare forte, ma forte, 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 fortissimo. Sotto il comparto del marketing e della comunicazione. Ma già come anche hanno fatto sto video. Mo perché da so giapponesi, eh, perché so giapponesi. Però, c'è sta spinge. È una waifu, te fa l'indominelli, puoi anche menarla, ma non te conviene. Cioè, poi se vuoi fa... Zio, non ti hanno puntato una pistola in fronte, Dio madonna. Dio Cristo, parla. Spiccato è l'atteggiamento, è molto... Non mi menare. Cioè, sto a lavorare, te lo giuro, Dio Cristo, non mi menare. Dio madonna. Sembra che erano spaventati dal parlare, dal dire, oh, abbiamo fatto un incontro casuale della madonna che ti dà anche dei premi fighi, delle robe fighe. Poi è bello se magari ci introduci qualcosa, perché, mo, ripeto, ne hanno fatto praticamente sempre un cazzo tra virgoltoni, no? Cioè, che magari se tu c'hai una pedina, in parti, mago, stregone, che quindi è acculturata, magari ti dà una mano, no? Bella, bella, sì, completamente differente dalla sfingia che c'era su Dragon's Dogma online. Meno male. Quanto cazzo di hype c'ho per Dragon's Dogma 2? Se se lo giocano bene, se se lo giocano bene. Lo dico, fatte che a sto punto c'è rinuncio. Secondo me non andrà mai a migliorare il lato comunicativo, perché praticamente tutto il team è fatto così. Cioè, sono tutti, boh, degli ikikomori. Che se se devono comunicare con il mondo esterno, non ce la fanno e non ce la fanno.